Palazzina di recente costruzione, primo piano servito da ascensore, due camere da letto, due balconi, bagno finestrato con box doccia, soggiorno con angolo cottura e ampio garage al piano interrato. Ciao sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere quest'appartamento in vendita. Grazie a tutti. Sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri. Ci vediamo in visita. Grazie a tutti.